Come persona che si occupa della ricerca è molto ansioso di andare a vedere nei programmi dei partiti quali sono i programmi per la ricerca e purtroppo la parola ricerca non si trova, la parola ricerca scientifica non si ritrova. Allora pongo alcune cifre per la sua riflessione e per la riflessione di tutti. Se noi dovessimo avvicinarci anche solo alla spesa per la ricerca della Francia, un paese simile a noi, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più all'anno. Abbiamo per mille abitanti la metà dei ricercatori dell'Europa, della media europea, con tutto quello che è già stato detto di fuga dei cervelli. Abbiamo una spesa che è circa la metà, insomma in modo adeguato, a quella della media dei paesi europei. Si calcola l'1,2% del prodotto interno lordo, ma non è vero perché si fanno assunzioni di spesa per la ricerca che non ha niente a che fare per la ricerca. Le cifre che vengono date sono sempre in ritardo, non arriva mai puntualmente, c'è tutta la burocrazia dietro. Per dargli un esempio, io dirigo un istituto, il Mario Negri, che ha 700 persone e abbiamo ricevuto, con due anni di ritardo, il contributo del Ministero della Ricerca, che è di 63 mila euro, per non parlarle di quello che i politici hanno accettato in modo tranquillo, che sono tutte le istanze degli animalisti. Noi per fare la sperimentazione clinica, che è ancora fondamentale per la ricerca scientifica nelle scienze della vita, per usare un topo dobbiamo compilare una quantità di carta incredibile, dobbiamo passare attraverso tre o quattro commissioni e se tutto va bene, dopo sei mesi abbiamo l'autorizzazione a usare il topo. Ecco, a me piacerebbe che i partiti, quelli che ci propongono delle elezioni, ci dicessero, conoscessero questi problemi e ci rispondessero, dicessero per questo voglio far questo, per questo voglio far questo, questo non mi interessa. Ma insomma, purtroppo viviamo in una situazione in cui non c'è nessun rapporto fra chi chiede e chi risponde. Io ho scritto centinaia di lettere e non ho mai avuto nessuna risposta da parte di nessuno.